In questo video vi parlo dei mari e degli oceani. Abbiamo già visto le caratteristiche delle acque salate, andiamo adesso a vedere un po' nel dettaglio cosa sono gli oceani, quali sono, che differenza c'è tra oceano e mare. In questa carta geografica sono evidenziati i principali oceani. In genere si considera che sulla Terra ci siano tre oceani, Pacifico, Atlantico e Indiano. Si può anche considerare l'oceano, il mare che in qualche modo circonda l'Antartide e anche il mare artico potrebbe essere considerato un oceano. Quindi a seconda di come si vogliono considerare queste masse d'acqua, sulla Terra ci sono da tre a cinque oceani. Sicuramente però i tre oceani Pacifico, Atlantico e Indiano sono i più importanti. Il Pacifico è l'oceano più grande del mondo, è delimitato, andiamo a vedere qua con Google Earth, è delimitato a ovest dal continente asiatico e australiano e a est dai continenti americani, a sud dal continente Antartide oppure dal mare, dall'oceano Antartico. La sua caratteristica è quello di avere un fondale oceanico abbastanza uniforme, come si può vedere, perché le dorsali oceaniche sono poste un po' lateralmente e poi caratterizzato da fosse oceaniche, soprattutto nella parte a ovest, tra cui la più importante è la fossa delle Marianne che raggiunge i 10 km di profondità. Un altro aspetto che recentemente per cui è diventato famoso è che qui al centro si sta concentrando una specie di isola di plastica, che in realtà non è che si vede questa plastica perché sono frammenti, micro frammenti di plastica, per cui si sta concentrando un brodo di plastica dovuta alla plastica che non viene smaltita correttamente, soprattutto nei paesi del terzo mondo, che va a concentrarsi per effetto delle correnti oceaniche al centro dell'oceano Pacifico. Poi abbiamo l'oceano Atlantico, che è il secondo oceano per estensione, occupa circa il 20% della superficie. Andiamo a vedere l'oceano Atlantico, è delimitato a ovest dai continenti americani, Nord America e Sud America, e a est dal continente africano e dall'Europa. Il suo fondale oceanico, a differenza di quello pacifico, è caratterizzato da una spina dorsale, una specie di spina dorsale, che è la dorsale medioatlantica, che è un... si può considerare come un rilievo da dove si forma nuova crosta oceanica. È un rilievo, una specie di catena montuosa che ha una fessura che si chiama Rift Valley, una specie di valle nella zona centrale. È tutta un po' spezzettata. Comunque questa è la caratteristica del fondale oceanico. Qui non ci sono grandi fosse oceaniche. Ecco, è stato un oceano, diciamo, molto esplorato nel corso della storia, perché la conquista, diciamo, la scoperta dell'America è avvenuta attraverso questo oceano, soprattutto grazie a Cristoforo Colombo. Poi abbiamo l'oceano indiano, che è il terzo oceano della Terra, anche lui occupa circa il 20%, e andiamo a vedere dove si trova. Ecco, è qui, attorno all'India, quindi è confinato dal continente africano, penisola arabica, Asia, India, il continente asiatico, diciamo, e sud-est asiatico e Australia. Anche qui è presente una dorsale oceanica e ha una forma a una forma un po' Y rovesciata. Ecco, viene giù e poi si divide forma una specie di Y. L'oceano indiano, nel corso della storia, è stato molto esplorato da diverse civiltà, sin dagli egizi, ma poi soprattutto gli arabi e gli europei, diciamo, lo hanno in qualche modo conquistato grazie a Vasco de Gama, che per primo arrivò in India nel 1948, quindi pochi anni dopo la scoperta dell'America. I fondali oceanici si trovano a circa 4-5 chilometri di profondità e sono caratterizzati da una pianura detta piana abissale, per esempio l'oceano pacifico, è in buona parte formato da una piana abissale, però ci sono anche altre strutture e sono le fosse oceaniche, come quelle presenti qui a ovest dell'oceano pacifico, dove c'è anche la fossa delle Marianne, dovrebbe essere questa. vediamo se c'è scritto, no? Vabbè, dovrebbe essere quella. Sono caratterizzati da isole vulcaniche, per esempio qui in mezzo all'oceano pacifico abbiamo le Hawaii, che derivano da un hotspot che ha creato questa serie di isole vulcaniche. e poi, come dicevo prima, ci sono le dorsali oceaniche, che sono le strutture dove si sta formando nuova crosta oceanica. Andiamo a vedere qualche immagine. Ecco, questo mostra appunto i vari oceani, oceano pacifico, qui al centro il più grande, oceano atlantico, oceano indiano, oceano antartico e oceano artico, la zona nord. Quindi in questa mappa ci sarebbero cinque oceani. Questo è uno schema che mostra invece la posizione delle dorsali oceaniche. Quindi si vede bene la dorsale medioatlantica, che attraversa tutto, da nord a sud, tutto l'oceano atlantico. Si vede che la dorsale nell'oceano pacifico invece è posta lateralmente, un po' a est, vicino ai continenti americani e a sud. E si vede che anche la dorsale indiana, nell'oceano indiano, che ha una forma Y rovesciato. Questo è un altro disegno, questo deriva da foto, da satellite, rielaborato il computer, che mostra sempre le dorsali oceaniche. Qua si... vengono anche evidenziati con i colori l'età delle rocce dei fondali oceanici, per cui si vede che... allora, verso il rosso sono le rocce più recenti, invece verso il blu le rocce più antiche e quindi si vede che le rocce più recenti sono quelle vicine alla dorsale oceanica perché, come vi dicevo prima, dalla dorsale oceanica si forma nuova crosta, nuovo fondale in pratica oceanico, per cui le rocce vicine alla dorsale saranno quelle più giovani. Vabbè, qui mostra... si mostra la posizione della fossa delle Marianne, nell'oceano pacifico, le Hawaii, al centro del pacifico. Ecco, un'altra caratteristica dell'oceano pacifico è che tutto attorno, proprio a causa dei moti delle placche che vanno in subduzione, cioè che vanno sotto ad altre placche, si crea praticamente una serie di vulcani molto attivi. Questo anello di vulcani viene chiamato Ring of Fire, letteralmente l'anello di fuoco. Per cui abbiamo tutti i vulcani sulla catena andina, la regione vulcaniche, quindi le isole della zona del Giappone e delle isole del pacifico. Ecco, questo schema evidenzia appunto l'isola di spazzatura che si trova al centro dell'oceano del pacifico, più o meno attorno alle Hawaii. E questa è una foto da satellite delle isole Hawaii. Questo è l'oceano Atlantico, Atlantico del Nord e Atlantico del Sud. Ecco, questa mappa mostra i quattro viaggi che effettuò Colombo. Il primo è quello in blu e è arrivato praticamente solo nelle isole caraibiche. Anche il secondo è il terzo viaggio, ha esplorato meglio le isole caraibiche. È stato con il quarto viaggio che effettivamente è arrivato fino al continente in Centro America. Siamo nel 1492, diciamo, con la scoperta dell'America, con il primo viaggio. Questa immagine, sempre a falsi colori, mostra bene la dorsale medioatlantica. Questo è l'oceano indiano. Ecco, questo mostra la parte finale della rotta di Vasco de Gama, che ha superato il capo di Buona Speranza e poi ha risalito un po' lungo la costa africana e poi si è diretto verso l'India. E quindi, diciamo, è stato il primo a arrivare nelle Indie attraverso il mare. Prima queste rotte, tra Africa e India, erano in qualche modo gestite solamente dagli arabi. Ecco, questa mappa vuole un po' evidenziare le importanti vie economiche che esistevano in passato. In rosso evidenzia la via della seta e in azzurro la via delle spezie attraverso le Indie e altri paesi del sud-est asiatico. Qui non si vede benissimo, ma vorrebbe mostrare la dorsale oceanica indiana. Qui c'è l'India e qui c'è l'Africa. Vedete, scende giù in mezzo all'oceano indiano e qui si biforca formando una Y rovesciata. Questo è uno schema di un fondale oceanico. È una sezione. Dovremmo immaginare che la piana abissale sia in genere più ampia. Quindi la piana abissale, che attorno ai 5 km di profondità, qua dice dai 4 ai 6 km. Poi abbiamo la scarpata continentale, che è la scarpata che scende dalle piattaforme continentali, dai continenti. Abbiamo le fosse oceaniche, le isole vulcaniche e le dorsali oceaniche. Quindi sono tutte strutture che abbiamo visto prima sintetizzate in questo schema. Questa è una ricostruzione tridimensionale di una dorsale oceanica. Ecco, qui al centro, non so se si vede, c'è una profonda fessura che corrisponderebbe a una grande vallata che si chiama Rift Valley. Ed è qui in mezzo che fuoriesce nuova lava. Infatti questa linea rossa mostrerebbe la lava che fuoriesce proprio in mezzo alla Rift Valley. Questa è un'animazione che mostra appunto come in mezzo alla Rift Valley fuoriesce il magma che dà origine a nuovo fondale oceanico che quindi si espande proprio a partire dalla dorsale oceanica. E questa è un'immagine della fossa delle Marianne. Bene, quindi abbiamo visto le principali caratteristiche i principali oceani e le principali caratteristiche. Andiamo adesso a vedere che cosa sono i mari. I mari non sono altro che porzioni di oceano circoscritte in qualche modo da confini naturali e quindi i mari fanno parte degli oceani quindi sono porzioni di oceani. Per esempio nell'oceano Pacifico magari ne andiamo a vedere con Google Earth nell'oceano Pacifico nella zona ovest abbiamo per esempio il mare del Giappone il mare il mare cinese il mare di Bering il mare cinese e qua dice orientale il mare delle Filippine ecco sono tutti i mari in qualche modo delimitati da isole da penisole da formazioni che in qualche modo delimitano una porzione di oceano. Andiamo a vedere nell'oceano atlantico ecco qui abbiamo il mar Caraibico che è delimitato dalle varie isole caraibiche abbiamo il mare del Golfo del Messico se così si può chiamare poi verso l'Europa abbiamo abbiamo metta che la giriamo un po' abbiamo il mare del Nord e il mar Baltico e il mar Mediterraneo che diciamo è sempre collegato con l'oceano atlantico anche se è un mare abbastanza chiuso per cui è abbastanza indipendente diciamo da quella che è poi la vita dell'oceano atlantico a sua volta è suddiviso in mari più piccoli tipo mar Tirreno mar Adriatico mar Ionio nel oceano indiano anche qui abbiamo qualche mare famoso per esempio il mare il mare arabico tra la penisola arabica e l'India il mare del Golfo del Bengala il mare delle Andamane delimitato appunto dalle isole Andamane e abbiamo il mare del del Golfo del canale del Mozambico e direi questi quindi i mari non sono altro che porzioni di oceano